3 cose che non sai di Minecraft Ti sfido Esiste uno snapshot in cui le porte sono tridimensionali per errore Se scavi un blocco di lapis con fortuna 3 Potresti ottenerne fino a 36 in un colpo solo Nella versione 1.17 Era possibile piazzare l'acqua nel nether utilizzando il lichene Lascia un mi piace se ti ho rivelato qualcosa che non sapevi